Oggi siamo a Corleto Monforte, un suggestivo borgo del Cilento e siamo proprio con il sindaco Filippo Ferraro perché qui si terrà un convegno con a tema ospitalità extra alberghiero come volano di sviluppo locale. Sindaco, che cosa si può fare per questi borghi per farli rinascere ma soprattutto per farli conoscere e per farne apprezzare le bellezze? Noi abbiamo un bel centro storico, una piccola comunità che però vogliamo valorizzare e quindi far conoscere al pubblico italiano e anche internazionale e quindi abbiamo ritenuto doveroso partire proprio dalle attività ricettive, quindi le attività extra alberghiere per far sì che il turista che arriva qui a Corleto ha dove essere accolto e quindi soggiornare qua a Corleto. Anche per tanti corletani che vogliono rientrare dall'estero per trascorrere le vacanze qua. A dire la verità già abbiamo una buona quantità di stanze disponibili, quindi per quasi 110 posti letto qui a Corleto però vogliamo raggiungere una massa critica che sia più importante per far sì che nei periodi di punta vi sia la disponibilità per tutti perché in passato abbiamo notato che nel mese di agosto, di luglio le strutture sono tutte piene e quindi a volte c'è difficoltà poi per altri che vogliono raggiungerci qui a Corleto. Allora ecco, iniziare dalla normativa che diciamo serve per il settore e quindi è importante per i futuri operatori che vogliono ampliare la disponibilità di posti letto qui a Corleto con Brand & Breakfast, Casa Vacanze, altri agriturismi che stanno per aprire, ci sono già quattro agriturismi però se ne giungeranno alcuni altri e quindi questo è l'obiettivo di questo convegno, sensibilizzare la popolazione, i giovani c'è tanto da fare e tutti quanti dobbiamo rimboccarci le mani e seguire questa strada che non è solo quella del turismo ma anche quella dell'accoglienza di far vivere diciamo alle persone come si vive in questi piccoli paesi. Sindaco, tra l'altro Corleto vanta tante eccellenze anche gastronomiche come il Caciocavallo Podolico ma anche il Museo Naturalistico di Corleto, insomma tante bellezze da far conoscere e da scoprire. Sì, in passato è stato fatto già un ottimo lavoro di promozione di Corleto, dobbiamo continuare su questa strada. Il museo è il nostro Firello Occhiello insieme al centro storico, alla montagna, al bosco di Corleto che sono importanti e da valorizzare. A fianco a questo c'è bisogno dell'attività imprenditoriale privata che si organizzi, che faccia rete che si può proporre sul mercato, come dicevo, sia nazionale che addirittura anche internazionale magari con dei player americani dell'Inghilterra così da poter offrire i nostri prodotti. Il Caciocavallo è la nostra punta di diamante, stiamo cercando di valorizzarlo il più possibile qui a Corleto è nato il comitato promotore per riconoscere il Caciocavallo DOP degli Alburni quindi ringrazio Convagricoltura che ci è stata vicino per questa iniziativa. Stiamo portando avanti questa iniziativa, il presidente è qui di Corleto e di Antonio Greco sono un po' di allevatori del circondario e stiamo lavorando proprio per promuovere tutto quello che i nostri territori ci offrono perché abbiamo tanto e forse quello che è mancato in passato è un po' la promozione di quello che ci abbiamo. A volte cerchiamo cose che non abbiamo e ci dimentichiamo di quello che abbiamo sotto gli occhi che non riusciamo a valorizzare. Professore Raffaele Palumbo, docente universitario, non è la prima volta che la incontriamo per parlare proprio dell'ospitalità, dell'importanza dell'ospitalità extraalberghiera nei borghi del Cilento. Ecco, facciamo proprio il punto della situazione con lei, perché questo è un aspetto così importante per il rilancio di queste economie? Sì, perché si parla tanto di PNRR, si parla di sviluppo territoriale, ovviamente per esserci uno sviluppo territoriale in una località dobbiamo garantire dei servizi. In assoluto bisogna garantire l'ospitalità legata alla ricettività di tipo extraalberghiera perché ovviamente è impensabile di costruire strutture alberghiera in queste località bellissime e quindi anche con dei vincoli importanti. Quindi in questo momento per far restare qualche cosa alle comunità e quindi a tutto l'indotto bisogna farli pernottare e quindi su quello noi stiamo lavorando. Su un'ospitalità extraalberghiera che è semplice da creare, agevolando famiglie monoreddito perché ci consente questa ospitalità di esercitarla sia con partita IVA che senza partita IVA e quindi aumentare il reddito familiare per famiglie monoreddito. Professore quanto è importante anche che questi piccoli borghi facciano rete tra di loro in modo da far conoscere ai turisti che arrivano sui territori le bellezze non solo di Corleto, di Roscinio e di altri comuni ma dell'intero territorio? È fondamentale perché fare rete diventa fondamentale. Pensare che un singolo comune possa candidarsi ad ospitare turisti è impossibile. Già nella legge del 2001 dove c'erano le istituzioni dei sistemi turistici locali si parlava di mettere insieme più comuni e creare un grosso attrattore turistico anche in quei comuni che non avevano un'espresso a vocazione turistica. Quindi mettersi in rete è fondamentale. Poi li chiamiamo distretti turistici, li chiamiamo sistemi turistici locali o polituristici. L'importante è che gli amministratori capiscono che ci devono mettere insieme per poter dare un'offerta turistica completa. Grazie a tutti.